bella vecchi trapani ahahahahahahah e siamo nel grado adesso siamo tornati con un nuovo video qui sono su clever bot oggi e insulteremo malamente questa pottanella di merda quindi inizia subito a scrivergli pottanella di merda una droga su chi agazzi hello thanks i am pleased to meet you proprio è sempre gentile incredibile che sta fa? che sta fa? ritaglia cioè che è? no no questo share aaaah aaaah oh mio dio incredibile 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 cosa incredibile fanno gagare le tue risposte vai io metto tutte awful l'auraccio vai vai what is the square root of 64? 6 più 4 6 6 6 10 6 un illuminati vedi 64 più 8 eh 72 72 meno 2 70 70 che diviso 7 fa 10 10 10 è il numero di totti totti ha 5 lettere 5 lettere 5 lettere 5 5 è la metà di 10 ma mamma tutto torna parla italiano parla italiano sto parlando oh ma che bevi per culo ano no più si meno agab ti dice aaaah chi mi dice che sorrido la continua con tonua con tonua incredibile aaaah mamma mia lascia perde non fa la cutie aaaah a te aaaah a te che sei semplicemente sei sostanza dei giorni miei allora adesso allora per cazzo e parla italiano prima cosa se non parla italiano ti mando loredana per te a casa io direi più rosario muniz però vabbè ehi sono si è messa a paura bravo pampino brava sono una femmina brava un pompino scusa brava per forza la servi su un piatto allora brava un pompino grazie ma per cosa brava eh 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 per il pompino oh oddio che parla inglese devi morire oh ma pensa di merda però come ci parla italiano quando ti consulta mamma mia mamma mia ti ti taglio dalla vita nooo italiano ahahah ok ok questa foto non la muori ahahah io ho muratore in cui in Italia c'è crisi ahahah 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 io ho muratore in cui in Italia c'è crisi ahahah anche noi muratori se continuare a fare video su youtube ahahah ahahah hai problemi di personalità multiple aggiungerei per te soffro di personalità multiple si vede come si vede? con occhiali o con l'occhio ahahah 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 quanto diamo sta risata anch'io sono fidanzato da un ragazzo stupendo ci frega un cazzo è ponte complimentoni ciaoone complimenti a te ma hai detto sempre ragazzo forse sei te ragazzo stupendo allora perchè me lo chiedi? perchè si ma no crash crash c'è ragione vero oh 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 cosa oh oh merda oh ah no aw v Essa come Thai ai 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 dei 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 aaaah bbbb bbb noo noo perchè noo perchè si e perchè si perchè noo perchè noo perchè la notte è piccola per noi no mamma mia voglia piccolina troppo piccolina questo sarà tipo un clever botta a canzoni perchè non so chi sei ti hai risposto buona bimbo minchia non ti riconosco più caro sei cambiato in questi ultimi tempi noo si capito pezza di merda perchè non mi ami perchè amo un'altra perchè mi tradisci perchè tradisco un'altra che non ti amo più ok ne ne farò un'altra un'altra perchè non ci conosciamo ok ne conoscerò un'altra incredibile un'altra che latin lover saluta tutti saluta la famiglia ciao ciao sei finato un piatto d'argento con questo ciao ne finiamo il video che ero fatto ci ha saldato e oggi abbiamo non so cosa abbiamo fatto abbiamo fatto il clever dei vocali si no a parte a b risposta a canzoncine e conoscere altra gente si abbiamo non lo so comunque scialla comunque non parla italiano se vi avrete questa puntata questo episodio nuovo di clever bot lasciate tipo 3000 like avrete il prossimo episodio esatto a posto t'apposto bella ciao 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 ciao